Il legame mio con Castelveccio Calvisio è un legame che possiamo dire c'è stato dalla nascita. Da quando sono nato non mi sono mai allontanato, eccetto per brevi periodi per quando sono stato a studiare. Mi piace scoprire le cose anche antiche di questo paese. La caratteristica architettonica del borgo di Castelveccio è quella di avere una forma perfettamente geometrica, un ovale perfettamente geometrico, ecco come dicevo. Questo presuppone una programmazione, c'era un progetto alla base della formazione di questo borgo. Venite a trovarci a Castelveccio Calvisio perché certamente non sarete delusi. Noi qua siamo Tosti.